mi senti bene no perché ho il microfonino qua sotto invece ok perfetto allora namaste benvenuta ci portiamo in una posizione comoda seduta e ci mettiamo con la schiena dritta e chiudiamo gli occhi iniziamo ad osservare come degli spettatori passivi lo stato del nostro respiro le sensazioni del nostro corpo tutto ciò che fluisce tra il pensiero e il corpo tra la mente e le sensazioni respiriamo sempre solo dal naso cerchiamo di portare uno stato di consapevolezza nel momento presente ci prepariamo per una pratica di yoga per la luna piena di oggi una pratica lenta che ci permette di muovere il corpo fisico mentale ed energetico con estrema lentezza e consapevolezza al prossimo inspiro andiamo a gonfiare la pancia con un palloncino ed espirandola sgonfiamo completamente di nuovo inspiro gonfio espiro sgonfio completamente ultimo inspiro più profondo gonfio 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 la pancia ed espiro sgonfio respiriamo normalmente ed osserviamo il flusso del respiro ci disegniamo un sorriso sul volto leggero sottile quasi interiore modo da permetterci di collegarci con la nostra natura più gioiosa con il benessere vero che appartiene a noi al prossimo inspiro portiamo le mani in namaskar mudra posizione di preghiera e ci prepariamo per intonare tre om di apertura della pratica di oggi inspiro respiro oh 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 Inspiro di nuovo. Inspiro più profondamente per l'ultimo terzo OM. OM Senti la vibrazione del suono universale. Che eleva la tua frequenza. Che ti aiuta a ricreare il ponte con te stesso, con l'io superiore, con la tua vera natura. E manteniamo le mani in Namaskarmudra per intonare il mantra di oggi. OM SOMAYE NAMAHA Un mantra dedicato alla luna. Un mantra che ci aiuta a canalizzare le cose che non servono più a uscire fuori, a essere trasformate. E che ci aiuta ad abbracciare il cambiamento di questa luna nuova, piena, con maggiore consapevolezza. Lo canterò io due volte e poi inspiriamo per cantarlo insieme. OM SOMAYE NAMAHA Inspiro insieme. OM SOMAYE NAMAHA 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 Sussurriamo e poi continuiamo ad intonare silenziosamente dentro di noi il mantra. Portiamo entrambe le mani alle ginocchia e da qui iniziamo a muoverci verso destra e verso sinistra con le colonne in modo da risvegliare tutta l'aria intorno alle vertebre. Delicatamente facciamo un movimento che cerca di coinvolgere ogni vertebra consapevolmente fino al collo. Cerchiamo di portare il sostegno di cui abbiamo bisogno in questo momento attraverso la nostra energia. Ci focalizziamo nel costruire questo sostegno nella pratica di oggi. Continuiamo a muoverci destra e sinistra. E dopodiché ritorniamo al centro. In modo da attivare il sistema digestivo e tutti i muscoli interni e gli organi andiamo a fare il cerchio in avanti inspirando ed espirandoci inarchiamo. Inspiro avanti e respiro indietro, manteniamo entrambi i dischi ben ancorati a terra, solo il busto e leggermente le braccia smuovono. Cerca di immaginare come se stessi disegnando la luna piena intorno a te, il grande cerchio lunare. Visualizza la luna. Ancora un giro da questo lato, profondo, consapevole. E al prossimo, espiro, ci fermiamo al centro e andiamo sul lato opposto. Continuiamo a girare. Ultimo giro e ritorniamo al centro, schiena dritta, portiamo le mani in Jamudra, dita che puntano verso il pavimento e ci prepariamo per Kapalbhati. Faremo un Kapalbhati lento e consapevole, in modo tale da permettere al corpo di espellere ciò che non serve più. Se hai mal di testa vai piano, ma comunque andremo piano. Facciamo un respiro insieme normale, inspiriamo dal naso, espiriamo completamente dal naso ed inspiriamo per iniziare Kapalbhati. Salute un'altra. Facciamo un'altra. Espiriamo. Espiro, 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 lento, espiro. 5, 4, 3, 2, 1, espiro, espiro, espiro completamente. Quando mi sono svuotato porto il mento, il petto, risucchio la pancia in dentro e tiro su il perineo chiudendo i tre bambi. Trattengo. Rilascio il mento, rilascio la pancia, continuo a mantenere il perineo. E lentamente inspiro, riempendo il corpo di prana, inspiro, 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 fino a riempirmi completamente. Quando sono piena, trattengo di nuovo, riporto il mento al petto, continuo a tenere il perineo, la pancia rilassata. Rilascio il mento, rilascio Mula Band. Rilascio il mento, respiro, respiro. Respira normalmente, lasciate expandere. Om Sumai Namaha. Respira. Apriamo gli occhi e al prossimo inspiro portiamo le braccia verso l'alto ed espirandoci pieghiamo in avanti, portando le mani a terra e se possibile ci pieghiamo con la fronte al pavimento. E respiriamo. Rilassa completamente le spalle, lascia che il peso del corpo cada a terra. Respira. Respira. Senti la distensione dei glutei, delle braccia, delle spalle. Le gambe. E lascia andare il torso completamente a terra, rilassato. Al prossimo inspiro guarda in avanti. Ed espirando lentamente camminiamo indietro con le mani in modo da riportarci in una posizione dritta. Distendiamo le gambe di fronte a noi, uscendo dalla posizione seduta. Muoviamo un pochino le gambe in modo da attivare tutti i muscoli, che siamo stati un po' di tempo con le gambe incrociate o seduti. Muoviamo anche le caviglie destra, sinistra. Avanti e indietro. E da qui portiamo i piedi alla distanza del tappetino, mani in Sailor Moon e ci prepariamo per il criglia. Inspirando andiamo indietro, ci sosteniamo con la pancia ed espirando in avanti. Inspiro indietro. Inspiro avanti. Inspiro indietro. Espiro avanti. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ultimo, inspiro indietro, espiro avanti e mi lascio cadere in avanti prendendomi le gambe, le caviglie oppure i piedi. Rilassa completamente le spalle che sono lontane dalle orecchie e il busto cadere in avanti, testa rilassata, respira profondamente. Om Somayenamaha, lascia andare. Al prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Espiriamo completamente ed inspirando ritorniamo su con la schiena dritta, riportiamo le mani a Sailor Moon, piedi a 90 gradi e andiamo verso destra. Inspirando indietro, espirando in avanti disegniamo la luna. Ultimi due giri da questo lato. E finito vado sul lato opposto, inspiro indietro, espiro avanti. Ultimo giro, inspiro indietro e poi espiro avanti. e ci lasciamo di nuovo cadere in avanti. Relax. Lascia andare completamente il peso del corpo in avanti e respira profondamente. Cerca di vedere se la tua flessibilità è aumentata un pochino quando vai avanti con i respiri, se puoi approfondire leggermente la posizione. Benissimo. Respira. Om Somayena Maham. Il prossimo inspiro, guardiamo in avanti, espiriamo ed inspirando ritorniamo su con la schiena e andiamo a piegare la gamba destra. In questo modo. E possiamo o semplicemente distenderci un pochino indietro, se non ci tira troppo la fascia muscolare della coscia destra, oppure possiamo anche metterci in questo modo con gli avambracci. Se sentiamo che qui è sufficiente, ci fermiamo qui, altrimenti ci sdraiamo completamente a terra. Scegli l'opzione che per te è più comoda in questo momento e se hai la cervicale e l'odora al collo guardati l'ombelico. Respira profondamente, senti la distensione della coscia, cerca di non opporgli resistenza, permetti al tuo respiro di raggiungere le fibre muscolari, al corpo di ossigenarsi, alle tensioni di uscire. Al prossimo inspiro ci aiutiamo a ritornare su prima, sulle braccia. Poi prendiamo la gamba destra, la ridistendiamo in avanti e facciamo la stessa cosa con la gamba sinistra, quindi pieghiamo la gamba sinistra indietro e cerchiamo di fare la stessa variante che abbiamo fatto per l'altra gamba in modo da non creare asimmetrie. Ci guardiamo l'ombelico, se ci dà fastidio il collo e respiriamo profondamente. Respira. Senti il muscolo della coscia sinistra che si estende. Respiri profondi, consapevoli. E al prossimo inspiro ritorniamo su con le braccia prima di tutto, poi ci aiutiamo a riportare la gamba in avanti. E portiamo entrambi i piedi a unirsi, gli ischi ben ancorati a terra, inspirando guardiamo verso l'alto, portiamo le braccia su. E respirando risucchiamo la pancia in dentro e ci pieghiamo in avanti in modo da prenderci i pollici dei piedi. E poi lasciamo cadere la testa in avanti fino a dove il corpo lo consente. Respiriamo profondamente. Spalli lontano dalle orecchie. Respiriamo. Om soma jena maham. Lontano dalle orecchie. Spalli lontano dalle orecchie. Respira. Nel prossimo inspiro guardiamo in avanti, espiriamo completamente ed inspirando lentamente ritorniamo su, ci riportiamo nella posizione seduta in avanti Schiena dritta, inspiriamo al centro, portiamo le braccia su ed espirando andiamo sul fianco destro, cercando di allungare quello sinistro, mano sinistra in Jamudra, osserviamo la mano sinistra in modo da permetterci di allungarci sempre di più Respiriamo profondamente, stiamo attivando tutti i canali energetici del fianco sinistro Includendo la zona delle ascelle che hanno tante ghiandole importanti Così come i meridiani del braccio che passano attraverso tutto il corpo, dai piedi fino alle mani Ancora due respiri profondi Al prossimo inspiro premiamo a terra con la mano destra, andiamo su, guardiamo verso l'alto, ci distendiamo ed espirando scendiamo sul fianco opposto Mano destra in Jamudra, guardiamo verso la mano destra, respiriamo Amsumaya namah Amsumaya namah Due respiri ancora da questo lato Prossimo inspiro premiamo a terra, torniamo su, guardiamo verso l'alto, ci distendiamo Inspiro 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 inspiro, invece di espirare scendiamo facendo un brambri Prossimo inspiro Inspiro, braccia su. Bramri. E ci fermiamo. Da qui portiamo la gamba sinistra dentro e la gamba destra oltre la gamba sinistra in questo modo. E andiamo a fare delle torsioni per detossificare e pulire l'organismo. Inspirando portiamo le braccia su ed espirando andiamo verso il lato destro. Portiamo la mano destra a terra se possibile o con la punta delle mani. E guardiamo oltre la spalla destra con la schiena dritta. Ad ogni inspiro la schiena si raddrizza verso l'alto. Ad ogni espiro entriamo in torsione più profondamente. Respiriamo. Ancora due respiri profondi. schiena dritta. E al prossimo inspiro torniamo al centro. Braccia verso l'alto. Contro torsione per un paio di respiri. e rilasciamo. Torniamo al centro. Rilassiamo la gamba destra. e adesso portiamo la gamba destra all'interno e quella sinistra oltre la gamba destra. Cerchiamo di ancorare entrambe gli schi a terra, quindi i gluti non sono sopra il pavimento ma sono distesi. Ed inspirando qua, portiamo le braccia su. E espirando torsione sinistra. Mano sinistra a terra, guardiamo oltre la spalla sinistra. Schiena dritta. Respiriamo profondamente. Stiamo ripulendo il nostro sistema, riprogrammando. schiena dritta. Ad ogni inspiro immaginiamo come se ci fosse un filo dorato che ci tiene su ed ogni espiro profondizziamo la torsione. Ancora un respiro profondo qui e al prossimo inspiro ritorniamo al centro braccia verso l'alto contro torsione per un paio di respiri. E poi ritorniamo al centro. Da qui ci spostiamo nella posizione del tavolo per poi andare a metterci in plank direttamente da qui. Guardiamo in avanti e dal plank pieghiamo le ginocchia giù, spingiamo indietro e facciamo il cobra. Inspiro Iniziamo a fare questo movimento da seduti, torniamo in tavolo, andiamo in bambino, spingiamo cobra. Inspiro Invece di espirare, tornando indietro, facciamo un bravo. Continua seguendo il tuo ritmo grazie a tutti ancora due giri e poi ci ritroviamo nella posizione del bambino le braccia si rilassano intorno al corpo e rilassa le spalle rilassa il viso e lascia andare ogni resistenza permetti al corpo di sprofondare con la forza della gravità terra relax respira profundamente lascia andare om somaye namah grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti al prossimo iniziamo a srotolare lentamente la colonna vertebrale premendo a terra con le gambe e lasciamo la testa a penzoloni che è l'ultima a salire riportiamo la schiena dritta e da qui ci prepariamo a fare la posizione del cammello ustrasana anche qui come sempre abbiamo o questa variante più semplice che va benissimo oppure se te la senti puoi scendere giù respira apri bene il petto ancora un respiro profondo e al prossimo inspiro portiamo prima le mani sulle spalle dietro e poi ci risediamo da qui apriamo bene le gambe facendo toccare i due pollici che ci sono sui piedi e poi camminiamo in avanti per permetterci di stenderci fino al punto che per noi è comodo oggi senti l'apertura dell'interno coscia cerca di rilassare completamente il corpo anche qui relax aum soma ye namah Grazie. E respiriamo profondamente. Stiamo scaricando a terra tutte le tensioni, quello che non ci serve più. Grazie all'afflusso della luna ci facciamo aiutare da questa energia per espellere verso fuori. Ciò che non serve. La luna ha un effetto sulle maree e noi siamo composti d'acqua, quindi anche noi abbiamo le nostre proprie maree in questo momento. Permettiamoci di fluire e di danzare con queste maree. Respira profondamente. Il prossimo inspiro guardiamo in avanti. Ed ispirando camminiamo lentamente indietro in modo da riportarci in una posizione seduta. Poi passiamo al tavolo e dal tavolo puntelliamo i piedi per andare in parvottasana. Da parvottasana facciamo una marcetta statica in modo da attivare la muscolatura, i polpacci. E poi il prossimo inspiro guardiamo in avanti e camminiamo con i piedi verso le mani. Una volta arrivati alle mani uniamo i piedi quanto più possibile e poi ci lasciamo cadere in avanti intrecciando le mani sui gomiti. Lasciamo cadere il petto, lasciamo cadere la testa e rilassiamo il busto. Respira profondamente. E rilascia le braccia a terra e al prossimo inspiro premi a terra con entrambi i piedi e srotoliamo la colonna vertebrale. piano 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 per andare in una posizione in piedi. Da qui, inspirando ed espirando, muoviamo prima il bacino verso un lato e poi verso l'altro. e poi ritorniamo al centro. Portiamo i piedi insieme e andiamo ad aprire il piede destro parallelo alla parte corta del tappetino, alla parte lunga, scusami, e il piede sinistro alla parte corta. Facciamo trikonasa nel triangolo, inspiro, vado in avanti, scendo giù. e ti puoi prendere o la caviglia oppure il pollicione, come sei più comodo. E guarda su verso il braccio sinistro. Ancora un respiro profondo. Il prossimo inspiro premi a terra con entrambe le piante dei piedi. Ritorniamo al centro, chiudo il piede destro e apro quello sinistro. Mi posiziono comodamente, inspiro, scendo in avanti ed espiro, scendo giù. Guardo verso l'alto, mano destra in Jamudra. Respira profondamente. Respira profondamente. Respira profondamente. Ancora un respiro qui e il prossimo inspiro ritorniamo su. Centro. E non chiudiamo le gambe, ma portiamo anche la gamba, il piede sinistro all'interno. Ci prendiamo il bacino, inspiriamo, guardando in avanti, petto aperto. Ed espirando, scendiamo giù in avanti, portiamo le mani sul tappetino. E se possibile, cerchiamo di far arrivare la testa sul tappetino. Respiriamo. Il prossimo inspiro premiamo a terra con le mani, guardiamo in avanti. Il prossimo inspiro premiamo a terra con le mani, guardiamo in avanti. Espiro qui ed inspirando ci riportiamo su lentamente e poi chiudiamo le gambe in questo modo. Ok. Adesso da qui faremo una piccola posizione di equilibrio dinamica. Quello che andremo a fare sarà, inspirando, porteremo su una gamba, in questo caso la destra, e invece di espirare scendiamo giù con un brambri. Stessa cosa sul lato opposto e continuiamo così. Inspiro su. Segui pure il tuo ritmo. Stessa cosa sul lato opposto e continuiamo a fare la testa sul tappetino. Ancora due volte. E l'ultimo. Finito questo, ci rilassiamo. Permettiamo al corpo di muoversi come vuole, ci distendiamo verso l'alto, verso i lati. Permettiamo di lasciare libero spazio al movimento, in modo tale che il corpo possa liberarsi da qualsiasi accumulo, tensione. Immagino di essere una foglia al vento. Permettiti di fluire libera. E poi ritorniamo giù. Da qui, prima di scendere per le ultime posizioni, inspirando apriamo le mani, le gambe sono più o meno alla distanza delle spalle, e andiamo a fare tapping sul petto, in modo da attivare il timo. Quindi, inspiro il centro, espiro. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, inspiro, apro le braccia, guardo verso l'alto, ed espirando lentamente riporto le braccia giù. Da qui, andremo ad inspirare verso l'alto, ed espirando ci facciamo cadere in avanti, quindi inspiro. Come se stessimo scaricando dal corpo tutto quanto con l'espiro. Come se stessimo scaricando dal corpo tutto quanto con l'espiro. Ultimo, espiro, e qui rimaniamo distesi in avanti. E' bisogno di fare qualche suono, datti pure lo spazio per farlo, lascia andare. Al prossimo inspiro, ci spostiamo nella posizione del plank, guardiamo in avanti, portiamo le ginocchia a terra, per poi riportarci in una posizione seduta in Vajjaryasana. Andiamo a distenderci a terra, per fare un'ultima posizione prima di entrare in Shavasana. ci distendiamo e da qui semplicemente portiamo la gamba destra al petto e l'abbracciamo e respiriamo. e respira profondamente. Om Somayena Maha e respira, lascia andare la gamba destra. Al prossimo inspiro, prendiamo sulla gamba sinistra. e respira. Om Somayena Maha e respira, lascia andare la gamba destra. e respira, lascia andare la gamba sinistra a terra. e ci prepariamo per entrare in Shavasana. Se hai freddo e hai bisogno di copertine, calzini, qualsiasi cosa, questo è il momento. altrimenti altrimenti entra in uno stato di rilassamento completo. senti il peso del corpo a terra. Permettiti di sprofondare sui stappetini. Om Somayena Maha Rilassa il viso, la fronte, gli occhi, le guanci, le orecchie. nella la mandibola la mandibola relax rilassa le spalle, i polmoni, il petto. senti come le braccia si vanno facendo sempre più pesanti. rilassa rilassa la pancia, il bacino, le cosce, i polpacci e i piedi. relax relax lassate andare in Shabbat relax рост relax 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 Grazie a tutti. 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 Prepariamo per un anuloma-viloma prima di chiudere la sessione. Grazie a tutti. 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 inspiro sinistro. Tappo sinistra. inspiro destra. tappo e spiro. inspiro sinistra. Grazie a tutti. Om. Om Somayena Mahan. Om Somayena Mahan. Om Somayena Mahan. Al prossimo inspiro portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare una Kanda Mantra, un Om e tre Shanti. Inspiro. Om. Akanda Mandala Karam. Vyaptam Yena Characaram. Tarpadam Darshitam Yena. Tashmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Sfreghiamo i palmi delle mani. Sfreghiamo gli occhi, ci portiamo i palmi delle mani a funchetta sugli occhi, ispiriamo, guardiamo su. Chiudiamo gli occhi, ispiriamo, testa giù e ci massacciamo gli occhi, le tempie, le orecchie, il collo. Il petto, la pancia e qualsiasi zona del corpo dove sentiamo necessario mandare dell'energia. Nammar. 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 Nammar.